Io in questi mesi sono andato sempre in campo dando il massimo e questo ci sono riuscito, purtroppo il calcio è fatto che l'attaccante deve far gol, lo so da solo, perché io in carriera sono stato sempre giudicato se uno fa gol e se uno non lo fa, quindi è normale, però ho dato sempre il massimo e adesso cercheremo da qui alla fine di fare più punti possibili e guardare soprattutto solo a noi perché è inutile guardare le altre squadre perché bisogna fare un campionato per noi stessi, poi ci sono 33 punti, speriamo di farli il più possibile. Queste partite con squadre che magari si devono salvare non sono mai facili, abbiamo visto a Ravenna, abbiamo visto a Pesaro, secondo me sono le partite più difficili perché devi vincere per forza, loro hanno fatto gol in un'occasione da noi concessa, siamo stati bravissimi secondo me a fare il gol del 2 a 1 perché se no si poteva anche mettere male la partita, si poteva incanalare per il pareggio e poi a chiuderla siamo stati bravi. Da domani bisogna pensare al debby perché è un'altra partita secondo me è molto molto difficile. Io ho 11 finali secondo me, sono 11 battaglie, bisogna prendere una partita per partita perché se iniziamo a pensare a medio e lungo termine non si va da nessuna parte. Ci sono tre punti da andare a prendere a Carpi domenica, io personalmente penso solo a questo, penso anche al Ministero, penso anche tutta la squadra e poi personalmente devo continuare a lavorare per la squadra, poi tutto il resto è una conseguenza, solo questo. Grazie.